Il deputato di Forza Italia, Gigi Casciello, chiede un intervento urgente della Regione e del Ministero dell'Ambiente dopo l'incendio che ha interessato l'Exstir nella mattinata di ieri, a preoccupare l'esponente forzista alla situazione d'emergenza sul fronte del conferimento rifiuti che si è creato negli ultimi giorni. La localizzazione di tanti impianti nell'area di Battipaglia non tiene conto dell'impatto ambientale degli stessi, afferma Casciello. Il Consiglio regionale intervenga affinché gli uffici regionali annullino in autototela le autorizzazioni agli impianti. Ve ne sono tutti i presupposti. Il Ministro dell'Ambiente Costa, aggiunge il deputato forzista, superi le difficoltà politiche che sta subendo e presenti finalmente il decreto legge sulle terre dei fuochi.